Sindacato, partiti, istituzioni e associazioni uniti in un comitato per chiedere la reintroduzione dell'articolo 18 e l'abolizione dell'articolo 8 del 2011 sul lavoro. E' iniziata anche in provincia di Lucca la raccolta firme per chiedere il referendum popolare che abolisca quanto fatto fino ad oggi dal ministro Fornero. Un referendum che rimette in luce il lavoro come diritto, che dica stop ad un ritorno agli inizi del Novecento e a delle modifiche che fanno tutto tranne che favorire una ripresa occupazionale ed economica del paese. Nello specifico con questa campagna i promotori FIOM, aree programmatiche CGL, Federazione della Sinistra, SELL, Italia dei Valori, Movimento Alba e Arci Provinciale mirano a reintrodurre garanzie per i lavoratori, sia per quello che riguarda i licenziamenti, con la riforma Fornero sparisce la giusta causa, sia per le retribuzioni, avere un minimo garantito, avere la malattia pagata, sia per quello che riguarda il diritto a scioperare. Obiettivo quello di raccogliere in tre mesi minimo 500.000 firme, ovvero quelle che servono per poter indire nel 2014, salvo che chi salirà il governo non atto i modifiche, il referendum. E proprio per raggiungere questo obiettivo saranno diverse le iniziative che verranno attuate. La prima quella in programma venerdì prossimo, quando tutti i sostenitori del comitato si ritroveranno dalle 16.30 in piazza San Michele, per spiegare le ragioni dell'iniziativa, cui sperano aderiscano anche le istituzioni locali e provinciali. Già nei prossimi giorni inoltre saranno allestiti i banchetti in diversi punti del territorio e all'esterno dei luoghi di lavoro e anche nelle segreterie comunali sarà possibile manifestare la propria adesione alla campagna Pro Lavoro e Pro Lavoratore.